Il loro motto è crederci sempre. Conosciamo meglio le ragazze della prima squadra. Quanta strada hai fatto per arrivare fin qua? Tanta, tanta sotto tutti gli aspetti. Sia le gioie che i sacrifici, che le delusioni. Qual è il preciso momento in cui avete capito che questa passione sarebbe diventata qualcosa di serio? Forse quando sono arrivata all'Inter quattro anni fa che ho capito che comunque era una cosa che mi appassionava e che avrei potuto coltivare anche grazie alla società in cui ero appena arrivata. Quanto è stato importante credere nelle vostre capacità per arrivare a giocare dove giocate? Tanto perché è vero che è uno sport di squadra però alla fine ognuno deve dare sempre il suo piccolo contributo. Qual è il momento più emozionante della vostra carriera fino ad oggi? Il primo scudetto col Brescia. È stata un'emozione dimenticabile. Per me è la vittoria del campionato di Serie B con l'Inter. Per me è la vittoria del campionato primavera due anni fa. Vittoria del campionato di Serie B.